Grazie maestro, il Presidente vieni, ho visto, è venuto. Grazie mille. Allora, oggi siamo qui ed è giusto essere qua, anche perché come amministrazione noi siamo sempre presenti. L'abbiamo fatto anche con la banda settimana scorsa, che sono stati bravissimi. Voi siete bravissimi ed anni che vi seguo, siete cresciuti man mano e quindi mi fa piacere. Fategli un grande applauso ai nostri cantenini del senino, sempre bravi, sempre in prima linea. E che ci aiutano, abbiamo anche una convenzione con loro, grazie alla Casa di Riposo, dove andate ad animare non solo, quindi grazie anche per quello che fate per il territorio. Quindi che dire, Bergamo Brescia è capitale della cultura, la cultura è tradizione, tradizione delle nostre canzoni che derivano appunto dai nostri avi. Quindi la cosa più bella è mantenere vive queste tradizioni e soprattutto le canzoni popolari, che sono appunto la nostra storia, la nostra memoria. Quindi noi vi ospitiamo come amministrazione in questa nostra piazzetta a Fretti, che è molto bella, accogliente. E quindi bravi a tutti voi, vive Canterini, viva Sarnico e viva l'Italia. Grazie. Grazie mille. Più così vicino.